Ed è un'emozione che è stata forte anche quando alcuni di noi sono stati ai funerali a Parigi questo 3 gennaio e hanno vissuto questa esperienza, questa giornata e riportando le parole di questa occasione che hanno attraversato ha colpito molto a tutti quanti l'averlo descritto come una grande assemblea, come un momento di riunione che mostrava la grande forza creativa e positiva che una singolarità come Tony Negri esercitava su tutto e in questa quasi solitudine che in realtà non è e non riesce ad essere una solitudine perché continuiamo a sentirci e continuiamo a vederci tutti quanti insieme uniti da qualcosa che non si arresta e che continua ad andare avanti. Noi abbiamo provato a scrivere qualche riga su questo e non sono state delle parole da scrivere facilissime perché sono delle parole che si legano a delle emozioni che non abbiamo forse ancora le parole per descrivere ma che quotidianamente indaghiamo e nelle quali ci immergiamo continuando a portare avanti una forza che vogliamo portare dentro l'università che sentiamo sempre più forte e sempre più necessaria per cambiare il mondo che ci circonda. Le mura di questo centro sociale da più di 30 anni hanno accompagnato, accolto e acceso il desiderio di tante generazioni di giovani rivoluzionari che a partire da qui, ma soprattutto uscendo da qui, hanno tentato di muovere, organizzare e vivere criticamente i luoghi di riproduzione della società progressivamente sempre più annichiliti e svuotati dalla compatibilità capitalista. Oggi ci troviamo noi di fronte alla sfida di stravolgere e risignificare i luoghi di formazione dalle scuole alle università. Abbiamo a che fare con un sistema universitario sempre più aziendalizzato e alienante sempre più inaccessibile e disgregante di ogni forma di organizzazione e di aggregazione. Di oggi è la notizia che i più poveri tra noi, che prima avevano accesso a servizi minimi come la gratuità dei pasti in mensa, ora non avranno più nemmeno questa, in un contesto che è già smantellato e nemico di chi non è ricco, dalle tasse annuali alle residenze pubbliche dentro una lacerata bolla immobiliare. Ci muoviamo in un mare in cui l'università è uno spazio per pochi, pochi che devono viverla passivamente dal punto di vista dei saperi critici, attivamente dal punto di vista della competizione. In un'università che fa del suo mantra la meritocrazia, dove i diversi punti di partenza non sono contemplati, dove il lavoro povero e precario della maggior parte di noi non sono tematizzati, dove le contraddizioni di un paese sessista, classista e razzista che fanno parte della nostra quotidianità non trovano spazi di discussione, dove gli spazi per discutere, organizzarsi e trasformare l'esistente ci vengono negati e ostacolati da burocrazie kafkiane e formalità infinite con cui la governance si fa da scudo. Muro di gomma è come abbiamo iniziato a chiamarlo, dopo che un femminicidio che ha sconvolto il paese intero ha invece lasciato l'istituzione della nostra università a una spettatrice passiva. Ma è proprio da qui che stiamo ripartendo, è proprio da qui che dopo anni di vuoto nella movimentazione universitaria, la ripresa dal basso degli spazi e dei saperi sono finalmente tornati a essere delle parole d'ordine. È l'idea di università che vogliamo immaginare, l'università per la quale lottiamo quotidianamente un'altra. Ed è un'idea di università che Tony insieme all'esperienza della sua generazione di lotta ci ha passato. È un'università basata sul pensiero critico, sul confronto, sul dialogo. È un'università basata sul desiderio. È un'università orizzontale, un luogo dove dotarci partendo dal desiderio di società e di mondo che vorremmo vedere, degli strumenti per ottenerlo e degli strumenti per costruirlo. L'università che vogliamo immaginare è un'università dove essere moltitudine. È un'università che non conosce i confini dell'individualismo capitalista al quale quotidianamente il sistema che viviamo prova ad obbligarci. Vogliamo essere questa moltitudine quotidianamente, nelle aule, nelle assemblee e nelle piazze. È negli scenari di mobilitazione universitaria che si stanno aprendo in questo periodo sentiamo vive le idee e l'immaginario di Tony, gli immaginari che ci hanno accompagnato dai racconti di anni che per quanto passati sentiamo vicinissimi vivono nel nostro mobilitarci quotidiano dentro l'università. Dentro la spaccatura che si sta aprendo sulla mobilitazione universitaria vediamo la luce di una possibilità di una nuova università ed è una luce che porta con sé una storia lunghissima e alla quale ci sentiamo indissorubilmente legate. Ed ogni volta che riusciamo a sentire vivo questo ponte che è lungo più di 50 anni sentiamo che la scomparsa di Tony non ci ha lasciate prive di un punto di riferimento. Perché nel soggetto politico che riusciamo ad essere quando occupiamo le sedi del nostro Ateneo, quando ci opponiamo al mondo capitalista, colonialista e patriarcale che la nostra università cerca di rappresentare, continua questo immaginario che Tony ci ha lasciato. Ed è per questo motivo che pensiamo che il modo per far continuare a vivere Tony nella nostra università, il modo per continuare a vivere le sue idee e il suo immaginario sia continuare questo lavoro di immaginazione, sia basare sull'immaginazione, sul desiderio, sul mondo che vogliamo vedere la nostra quotidianità, sia basarlo su questo continuare a non essere mai sazi di conoscenza, a continuare a voler indagare, a voler stravolgere le nostre idee, a voler pretendere di più dalle nostre idee, a voler chiedere ed interrogare, ad accettare di non avere le risposte giuste, ma ad accettare anche di avere il coraggio di porsi delle domande forti di fronte a un contesto che è tutto, tranne che nostro amico. Ed è dall'interno dell'università di Padova che ci piacerebbe anche che questo ripartisse, dall'università che ha cacciato e che non ha saputo rendere onore alla figura di Tony, ai suoi lavori, al suo pensiero. E ci piacerebbe che forse anche dalla comunità accademica che questo partisse, in una qualche occasione che sappia restituire il giusto onore e il giusto ricordo e la giusta dignità anche al pensiero e a ridargli spazio all'interno di questo nostro Ateneo e di questa comunità accademica che anche se l'istituzione ha voluto allontanarlo, ha cercato di cacciarlo, non ha saputo piegarsi a questo e ha continuato a mantenere vive le sue idee all'interno degli spazi, agli spazi dell'università. E noi speriamo che questo accada e noi ci saremmo sempre per farlo accadere in qualsiasi occasione, con qualsiasi ricordo, ma anche sentendo la necessità di continuare a vivere in maniera critica gli spazi dell'università che attraversiamo, a continuare a rivendicarci la necessità di avere un pensiero critico, la necessità di voler stravolgere queste mura che ogni giorno ci vogliono sempre di più, assoggettati ad un mondo capitalista, colonialista e patriarcale del quale non vogliamo essere una parte, se non essere quell'ingranaggio che in contrapposizione continuerà a far sentire anche da dentro una voce contraria, una voce che sappia dare continuità a queste lotte che continuano da tantissimi anni, che continuano in continuità con l'eredità che ci ha lasciato Tony, che ci ha lasciato questa epoca e che noi non vogliamo far morire dentro la nostra università, ma alla quale vogliamo aggrapparci con tutta la forza possibile per fare in modo che l'università continui a cambiare, che continui ad avere al suo interno delle persone che abbiano il coraggio di farla cambiare.